Molise, il transumante, di Adelchi Battista. Una volta qui c'era una città. Sotto questo grano verde, seminato a perdita d'occhio lungo il declivio e fino all'argine del fiume, riposano ancora le spoglie di mille guerrieri che combatterono la battaglia di questo luogo magico. Sepolti sotto il timo, sotto strati di pietrisco e humus, ancora giacciono i pezzi di scudo, le ossa dei cavalli, le lance arrostite dal fuoco, le vestigia dei carri papali. Pure, sopra il piano di campagna odierno, sull'orizzonte di questa primavera, non appare nulla se non una torre malandata, qualche muretto a secco consunto dal vento, pietre squadrate seminate a caso lungo il dorso della collina. Qui c'era una dogana, poi un borgo, infine il paese chiamato Civitate. Dall'aggiù, al di là del fiume, incomincia il Molise. Le bestie lo sentono, riconoscono il corso d'acqua, si affannano a superarlo nel guado conosciuto e si bagnano in fretta perché l'acqua è ancora gelida. Poi riprendono la strada millenaria che le riporta a casa, mugiscono euforiche, belano esaltate, tanto che i cani fanno fatica a tenerle insieme. La strada è sempre stata qui. Gli animali l'hanno tracciata prima ancora che l'uomo li allevasse. Adesso si chiama tratturo, una parola che viene dal latino traere, perché l'uomo è convinto di essere lui a tirare gli animali. La strada invece è un monumento naturale. Larga più di un'autostrada a quattro corsie, esisteva ai tempi di mio padre e di mio nonno, esisteva ai tempi di Civitate, percorsa dalle truppe normanne e da quelle del Papa Leone, ormai mille anni fa, e ancora prima, quando il passaggio delle mandrie guidate dal solo istinto ha modellato le colline, ha aperto i boschi e le foreste, ha creato le forme del paesaggio. L'uomo poi ha tracciato confini, ha elevato santuari per adorare i sacri vitelli e l'ha costellata di titoli militari e infine di chiese. Nel tempo la strada ha resistito a ogni altra forma umana di scempio, partendo dalle pianure sfinite del tavoliere, dalla costa adriatica, dalla santa grotta dell'arcangelo Michele, per graffiare la terra di mezzo come fanno le gocce di sangue, come fanno le vene sotto la pelle delle mani quando tenti di trattenere il toro in calore, che gli devi afferrare le corna per non esserne trafitto, fino ad arrivare su in montagna, sui freschi altipiani dell'appennino abruzzese. Tanti piccoli rivoli, bivi, riunioni di abbeveratoio, dogane, difese, ripari, mezzane, sassi consumati da zampe ungulate, un elenco di erbaggi uguale ogni anno, statonico e vernotico, e ogni animale che usa il sole come sola bussola e astrolabio. Dall'alba quando sta per arrivare il freddo e ci si prepara alla scasata, al tramonto quando sta per arrivare il caldo e si è pronti alla remenuta. Il trasformante non dimora, gli è possibile l'affezione al luogo e la generazione e la successione, che pure esercita per istinto di natura, derivano da attrazione di luna e orrore del vuoto. La casa è costruita, ma è regno femminile, serve per lavare la stoffa grezza e riparare le scarpe con stracci nuovi. La stalla invece è ovunque, sotto le stelle di Larino, sui colli di Casa Calenda, in mezzo ai sentieri scoscesi delle Mainarde, mentre trascina la mandria ineluttabile, lenta, migrante. Il viaggio può durare anche tre o quattro settimane, a seconda del braccio o tratturello che uno prende, a seconda di quale Pasco lo sceglie, quali tipi di erba, quale manto vuole ottenere dalle pecore, quale latte dalle mucche, quale formaggio. Il pastore è artista di mazza e uomo di cavallo. La mazza è la prima cosa che impara, ragazzetto. Un coltellino affilato per tagliar via i rami secondari, un pezzo di spago legato in punta e una cinghia di cuoio legata allo spago. Ed ecco lo strumento di lavoro, di appoggio per le vie scoscese, di pungolo per gli animali riottosi, di punizione per i bambini capricciosi. Da subito, perciò, egli teme le mura, ha il terrore delle città e si dilegua alla vista degli istanziali, della gente ferma. Il transumante vuole possedere il tempo, mentre il contadino si appropria dello spazio. Si tratta di una legge eterna. Caino era contadino, sua la roba, suo il campo, rigido nel possesso, sofferente nella mancanza. Abele era pastore, etereo, uomo del mondo intero, sognante, devoto, perché chi si distacca può volare. L'uomo dai piedi per terra lo disprezza, lo caccia quando il greggio attraversa la sua proprietà e, se è cattivo, lo uccide. Ma non è solo la città o i caini fermati a far paura. Nei sogni peggiori del pastore ci sono i lupi, ladri di bestie, cani randaggi e rabbiosi, i guadi da affrontare dopo le lunghe giornate di pioggia e persino certe feste comandate. Quanti vitelli sono affogati nella spuma bianca delle rapide. Quanti agnelli ha visto divorati dalle fauci fameliche quanto sangue sparso nei sacrifici ai santi, agli angeli, alle madonne incoronate. Dopo il fiume si sale un leggero declivio, le dolci colline molisane, una dietro l'altra, cornucopia di paesaggi, case sparse, alberi secolari, campi traboccanti di grano. Ci fu un tempo in cui questo posto era chiamato il granaio d'Italia. Il pastore del tempo si prende il tempo di ricordare suo padre, suo nonno e le storie di pugnali e di grano. Il nonno portava sempre con sé un pugnale. Tutti quelli che lo incontravano gli chiedevano di mostrarlo. Tutti volevano toccarlo. Forgiato dal più grande fabbro di Frosolone, per una e una sola funzione, infondeva la vocazione omicida a tutti quelli che ne accarezzavano il manico. E si capiva subito che quello era ben più che un pezzo di metallo. Era l'assassino degli imperatori, lo strumento dell'arte del legno, il cesello della lana. Alla vecchia dogana di San Domenico a Catovilli, il nonno sfoderava quell'arnese per pulirsi le scarpe dal fango. E tutti quanti, armentieri, garzoni, massari, cavallari e doganieri facevano sempre un passo indietro, per rispetto dell'uomo e timore dell'arma. Il nonno aveva avuto una vita di stenti e di avventure. Da ragazzo saliva da solo di notte per la collina di Duronia, spingendo un asino carico di farina. Portava il grano a un mulino poco fuori del paese, per macinarlo di contrabbando. All'epoca, durante la guerra, avrebbe dovuto invece portare ogni scorta all'ammasso per servire le esigenze del regime. Ma il nonno non amava i regimi e non voleva dividere la sua roba con sconosciuti. Con le altre famiglie del paese era il primo ad aiutare, a condividere le poche e povere cose che possedeva, ma con quegli sconosciuti di Roma non voleva avere niente a che fare. E così qualcuno fece la soffiata e i carabinieri irruppero nel mulino di Duronia, pochi minuti prima del suo arrivo. Lui si appostò in mezzo agli alberi e attese la fine della tempesta. Poi se ne torna a casa, al bivio di Sessano, sempre da solo, sempre a piedi, trascinando quella bestia da Soma sommersa di sacchi di grano. Il pastore deve lasciare la via principale per una breve sosta alla chiesa di San Giorgio Martire a Petrella Tifernina, che nella mistica bonaria dei semplici è chiesa magica e votata agli esorcismi. Le presenze diaboliche sono dappertutto. Nel Giona inghiottito e rigettato dalla balena sulla facciata e nei mostri vegetali e pagani che fanno capolino in mezzo alle foglie dei capitelli, delle croci templari sulle colonne, nell'uomo che sembra uscire dalla propria tomba alla base di un pilastro e in decine di altre raffigurazioni di esseri immondi, bafumetti, animali con teste umane rovesciate, creature infernali, serpenti giganti, draghi, addirittura una sirena. Alla chiesa si fa benedire un agnello per preseguire il viaggio con il favore delle mandrie celesti. Riprende il tratturello che scende verso sud-ovest per lambire un'altra chiesa antichissima e pastorale, Santa Maria della Strada. In quei luoghi dove la strada esiste da prima dell'arrivo di Dio, si può piegare alla strada persino il nome della madre di Dio e si possono incastonare nella facciata due enormi buoi. Si può raccontare la leggenda di un re chiamato Bove e più avanti chiamare una città Bovianum. Perché la strada esisteva prima dei circoli, prima del teatro, prima dell'idea di nazione e impero, prima persino della guerra. L'artista di massa rimugina la leggenda di quel re che voleva sposare la sorella e pertanto chiese una dispensa papale. Il santo padre gliela concesse a una condizione. Doveva costruire cento chiese in una sola notte. le doveva marchiare con il simbolo del suo nome, il grande bue. E poi le doveva ornare con le colonne e i capitelli tutti diversi e tutte dovevano potersi guardare tra loro. Perciò il re Bove scelse le colline aspre del contato di Molise e pensò di seminare le case di Dio lungo la grande strada millenaria. L'impresa, ad ogni modo, era impossibile. Così il re Bove, accecato dalla passione incestuosa, decise che avrebbe dato la sua anima al diavolo in cambio del grande prodigio. Satana costruì 99 chiese e stava per terminare l'ultima, Santa Maria della strada in agro di matrice, quando il re Bove di improvviso si pentì. Cadde come un corpo morto davanti alla facciata della chiesa e la sua anima fu requisita dall'Empireo per donargli la salvezza. Il diavolo per la rabbia scaraventò l'ultima pietra di Santa Maria della strada contro il campanile sfregiandolo per sempre. Ancora oggi la tomba nella chiesa, il campanile segnato, la pietra conficcata nel terreno e almeno altre sette chiese con le caratteristiche indicate dal papa, inclusi i buoi, si ergono a ricordare quel racconto popolare che mischia la leggenda e la verità come il siero con il sale marino per la ricotta buona. Dopo matrice si entra nella zona più pericolosa perché antropizzata, sede di città e industrie. Sono i cani ad avvertire l'uomo e le sue bestie. Si frappongono sempre esattamente a metà strada tra il gregge e il pericolo, fra la mandria e il passaggio delle auto, fra l'animale e il suo potenziale nemico. Spostano l'intera migrazione attraverso il percorso spezzettato dal pattume cementizio fino ad arrivare alle mura d'ingresso di Sepinum. Nel cielo delle contraddizioni può esistere anche una città creata dai pastori, uno stazzo lungo la via primaria che incrocia un tratturello secondario, una stalla che diventa difesa, riparo e infine borgo e cresce a dismisura grazie alla presenza d'acqua e al passaggio continuo delle mandrie e perciò definisce il suo decumano esattamente sul tratturo e il suo cardo sulla via secondaria a ospitare le terme, un teatro e persino il foro e la basilica imperiale. Una grande città romana poi corrotta dall'avvento dei barbari, caduta persino nelle insegne, trasformata in altilia dalla furia lungobarda e infine abbandonata sul ciglio del tratturo. Il pastore alza la mano in segno di saluto quando incrocia i turisti increduli, che tutto si aspettano in un sito archeologico tranne il passaggio di un greggio di pecore. Non c'è il tempo di fotografarlo per immortalarlo sulle bacheche virtuali, egli è già via, deve superare bovianum, superare Isernia e incominciare la salita verso le alture di San Pietro Avellana, rione rosa, nitico, recuperare lo stradone principale nella piana di Castelli di Sangro. È una messa infinita, ridondante, che ritorna nella mezza stagione e insieme alla mezza stagione è affogata nel cimitero dei luoghi comuni. Il transumante si estingue nel traffico di veicoli fuoristrada e di camminatori d'assalto, che al posto della mazza portano bastoncini in fibre di plastica spaziali. Le pecore, alla vista degli imbustati multicolore, tendono le zampe anteriori piegandosi all'indietro e restano così, immobili, terrorizzate. Abele deve girarsi, tornare indietro, in fondo al gregge, alzare la mazza, salmodiare un dialetto antichissimo e farle ripartire. E così i cittadini, le bocche spalancate tra boccanti di riso, applaudono felici. Grazie a tutti.